Si dice che niente è meglio di un buon caffè, vero? Ma perché non può berlo? Ci sono tante buone alternative, guardate qui! Ciao, sono Simona Vignali, naturopata, e questo è il mio spazio dedicato alle vostre domande di salute naturale, per una vita piena di salute, energia e positività. Oggi rispondo a Eleonora di Milano, che mi chiede cosa bere in alternativa al caffè. Cara Simona, ti scrivo per questo motivo, ho sempre mal di stomaco e bruciore di stomaco, e ho letto su internet che una delle cause può essere l'eccesso di caffè. In effetti ne bevo almeno 4 al giorno, uno al mattino, uno a metà mattina con i colleghi, uno dopo pranzo e uno di pomeriggio. A volte anche alla sera, se mi viene sonno, ne bevo uno subito dopo cena. Secondo te sono dipendente? E come succede che si diventa dipendenti? Come posso fare per non bere più tanti caffè? Ti ringrazio per tutti i consigli che ci dai, spero in una tua risposta. Eccola qua, cara Eleonora, la risposta. Grazie della domanda, anzi, sono sicura che la tua situazione sia comune a tante altre persone, come tè dipendenti dal caffè e che vogliono uscire da questa abitudine che sentono poco sana. Io come naturopata esperta di alimentazione salutista sono d'accordo con l'idea di bere poco caffè o non berne affatto, perché il suo eccesso è dannoso. Lo sapevi Eleonora che il caffè è una bevanda narcotica? Sì, la caffeina appartiene allo stesso gruppo di alcaloidi presenti nella morfina, nella cocaina e nella stricnina. E allora cosa succede quando beviamo il caffè? Molte cose che ci squilibrano, come il bruciore di cui mi parli tu Eleonora e che è comune a molte altre persone. Succede così, il caffè contiene oltre 100 sostanze acide che contribuiscono a disturbare la digestione, perché stimolano un'eccessiva secrezione degli acidi dello stomaco e questo provoca bruciore. Inoltre gli acidi sovraccaricano i reni e provocano gotta, calcoli renali, artrite, problemi reumatici, allergie, irritazioni cutanee, dolori e infiammazioni. La caffeina si mescola all'acido cloridrico dello stomaco e può generare una tossina che si chiama idrocloride della caffeina. Entra in circolo attraverso la vena porta dell'intestino, disturba il fegato che chiede alla cistifellea di rilasciare la bile nel tentativo di espellere la caffeina dal sistema. Ecco perché molte persone si illudono di avere una maggiore regolarità intestinale quando bevono il caffè. Come spiego sempre non è regolarità, è una scarica tossinica. Eleonora vuoi sapere come si diventa dipendenti e perché? La caffeina è un eccitante del sistema nervoso, stimola le ghiandole surrenali a produrre adrenalina, l'ormone delle situazioni di emergenza, quello che dà energia. Quando si abusa di caffè si riduce la sensibilità alla caffeina, non si reagisce più e si crea assuefazione perché si beve ancora più caffè e le surrenali girano a vuoto consumando energia e generando stanchezza cronica. Ma non solo, la caffeina obbliga è il fegato a rilasciare glicogeno nel sangue e altera la glicemia. Il pancreas risponde a questo picco glicemico rilasciando insulina, l'ormone che causa lo stoccaggio dei carboidrati in eccesso in forma di grasso. Nel giro di un'ora circa il risultato è una netta caduta del livello di zuccheri nel sangue, fenomeno conosciuto come ipoglicemia e per compensare questo fenomeno di ipoglicemia, spesso confuso con stanchezza, si cerca ancora caffè che poi abbassa la glicemia e chiama altro caffè e si entra in un circolo senza fine, cioè una dipendenza. Inoltre il caffè inibisce il corretto assorbimento di vitamine e minerali da parte dell'intestino tenue e causa una inutile e dannosa escrezione, cioè eliminazione, di calcio, magnesio, potassio, ferro e altri preziosi minerali traccia attraverso le urine. Alcune ricerche hanno dimostrato che le donne che assumono caffè hanno una maggiore incidenza di osteoporosi rispetto a quelle che non bevono caffè. Con le giuste informazioni è facile vivere uno stile di vita più sano. Come è facile? Iscriversi al mio canale con un click. E adesso rispondo all'altra tua domanda Eleonora, come sostituire il caffè? Ecco i miei sostituti preferiti e come li bevo io. Caffè d'orzo è uno dei sostituti più noti ed è il mio preferito per il sapore non troppo amaro e perché non ha caffeina. È ricco di minerali, ha proprietà digestive e lenitive delle infiammazioni della mucosa gastrica e intestinale. Quindi chi soffre di bruciore di stomaco da caffeina fa bene a passare al caffè d'orzo soprattutto dopo pasto. È consigliato anche durante l'allattamento perché agisce molto positivamente sull'equilibrio ormonale di questa fase della vita femminile. Inoltre contiene tocotrienolo, una sostanza utile per chi soffre di colesterolo alto. Caffè di cicoria, si ricava dalla polvere della radice della pianta e produce una bevanda più simile al caffè perché contiene dei derivati dell'acido caffeico, quindi ha un sapore piuttosto amaro. È utile alla digestione, alla depurazione del fegato, dell'intestino e dei reni. Per la sua presenza di caffeina in una piccola parte, il caffè di cicoria è comunque controindicato in caso di gastrite o ulcera peptica. Io lo prendo quando ho bisogno di un po' di sostegno, ma mai dopo le 5 di pomeriggio per evitare una notte insonne. Caffè di farro, forse non tutti lo conoscono, ma è ottimo rimineralizzante, contiene calcio, ferro, fosforo, magnesio, potassio, selenio. Ha proprietà lenitive, rinfrescanti, antiossidanti, grazie all'acido fitico, al selenio, alle vitamine A, C e B. Va bene sia concentrato, come un espresso dopo i pasti, oppure molto lungo, come una tisana di caffè. in qualsiasi momento della giornata. Ma se volete partire alla grande, al mattino, senza bisogno di caffè e con una bevanda completamente diversa e assolutamente sana, che dà energia, salute e depura invece di intossicarvi, guardate questo mio video che riguarda una bibita particolare del mattino che vi aiuterà a introdurre una nuova abitudine ogni giorno. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Vi è piaciuto questo video? Bene, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e le vostre esperienze sulle alternative al caffè qui sotto. E se anche voi avete degli amici che sono dipendenti dal caffè o secondo voi ne bevono troppi, fategli vedere questo video, condividetelo con i vostri amici e sui vostri social. E sul mio sito, all'indirizzo nell'info box qui sotto, trovate tante altre news e informazioni sul caffè e sull'alimentazione sana. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!